Una buona giornata, una buona mattinata cari telespettatori di FanoTV, benvenuti alla nostra segna stampa, il commento alla stampa del giorno che come tutte le mattine alle 7 vi presenta i quotidiani, il Corriere, il Carlino e con le pagine che vi abbiamo selezionato e che tra poco vi faremo vedere commenteremo perché ci sono anche oggi delle notizie importanti, bisogna fare attenzione come sempre uscire di casa ammesso che si possa uscire di casa tranquillamente come stiamo facendo in queste giorni di zona rossa ma uscire di casa informati è sempre una buona cosa, ma anche se si sta in casa bene essere informati e tra poco faremo anche questo, vi daremo le ultime notizie Allora prima di tutto andiamo a vedere il santo, il santo di oggi, oggi è il beato Amedeo nono di Savoia il sole è sorto poco fa, 5 minuti fa alle 6.55 e tramonterà alle 19.36 Aumentano le temperature, a certificarlo è anche il titolo di questa apertura di oggi di trebimeteo.com con l'anticiclone africano che garantirà quasi l'estate anche nella nostra regione avremo nel pomeriggio punte di 26-27 gradi, insomma sarà davvero estate e il problema è che non piove, questo è un altro problema ma comunque Pasqua e Pasquetta cambia tutto, ecco sì la pioggia arriverà Pasqua e Pasquetta domenica, lunedì, tanto dobbiamo stare in casa per cui cambia poco E adesso invece i giornali, questa mattina partiamo dal Carlino di Ancona perché c'è una tragedia, una tragedia familiare che si è consumata a Senigallia un padre di 73 anni che di fronte all'ennesimo litigio con il figlio figlio che probabilmente era andato su tutte le furie perché voleva soldi per acquistare droga padre che ha preso la pistola e gli ha sparato contro, uccidendolo questo è accaduto a Senigallia ieri la fotonotizia sul Carlino, eccola qua, ennesima lite, uccide il figlio titolo, tragedia familiare a Senigallia la vittima aveva 27 anni Alfredo Pasquini era giunto da un colpo di pistola esploso dal padre Loris che ora è accusato di omicidio aggravato l'uomo era infuriato, il ragazzo aveva preso a calci la sua auto in casa c'era anche la nuova compagna del 73enne l'urlo della mamma contro l'ex perché l'hai fatto e poi quelle continue richieste di soldi per la droga e di altra tragedia sempre sul Carlino di Ancona l'addio alla figlia del medico eroe il medico Carlo Urbani ma di spirito libero e ribelle voleva vivere in Vietnam dove il padre scoprì la SARS il Carlino di Pesaro invece la giostra dei vaccini sembra davvero una giostra questa foto che riguarda il debutto dell'area del punto nuovo vaccinale a Pesaro siamo all'interno del centro commerciale Conad l'assalto degli anziani in questa nuova sede paletti e serpentine all'interno del centro commerciale per alleggerire l'ondata degli over 80 mentre il computer o al telefono la fascia 70-79 anni lottava per accapararsi una prenotazione e poi sempre dalla prima del Carlino Valentino e Luca, fratelli coltelli no, sono i miei gioielli dice mamma Stefania che si confida la mamma di Valentino Rossi e Luca Marini poi Carlton Myers il mezzo secolo di un campione compie 150 anni l'azzurro parliamo di basket poi così tagliamo la testa al virus i risultati della terapia monoclonale pazienti di tutta l'età il primario definisce la malattia una malattia che si può fermare prima di aggravarsi e poi a Mercatero sul Metauro dove scoppia un focolaio al monastero di Clausura 16 le suore attualmente positive premi ai sanitari ma sull'accordo non c'era scelta i lavoratori sono insoddisfatti a Fano invece un arresto un 26enne che a un certo punto ha deciso di entrare in un supermercato nella zona della stazione ferroviaria e a suon di colpi di tosse contro i clienti cercava di farsi largo ed è stato arrestato dalla polizia di Fano Vuel e il poker invece che fa male 4 K.O. di fila Robinson e Delfino sono una delusione si salva soltanto tambone e questa invece è la pagina del Corriere Adriatico edizione pesarese il picco è ormai alle spalle questo è una buona notizia e sono parole di Pompili che è il capo osservatorio epidemiologico della regione Marche che vede la luce la famosa luce in fondo al tunnel si pensa ad un decreto invece Ristori Bis la regione lo sta pensando nuovi, un po' di soldi insomma per le categorie soprattutto più colpite all'ex Ristori il nuovo centro vaccinale obiettivo 2000 dosi al giorno e immunizzare tutti entro la fine dell'anno Villa Marina invece Villa Marina a Pesaro il ritorno dello sport la riqualificazione dopo il flop e poi offese sui social al disabile morto la famiglia Querela necrofori assolti le motivazioni niente peculate poi sempre da Pesaro addio a Tombari ceramista e docente con il tocco di luce di spalla invece ho scelto le Marche fanno bene al cervello parola di Cassini Dario Cassini attore di cinema e tv autore radio e cabaret ha scelto le Marche in particolare Numana come Buen Ritiro dove avere anche ispirazione fusione sulla fusione Marche Multiservizi ci fu una forzatura con il piano rimasto segreto sono rivelazioni importanti le vedremo tra poco le rivelazioni di Samuele Mascarina la commissione di controllo ma sulle scelte strategiche decide il Consiglio Comunale ha detto molto intelligentemente Mascarina andremo a vedere poi nel dettaglio di cosa si parla intanto pagina 3 del resto del carriero di Senigallia di Ancona perché hai ammazzato il mio bambino sono le parole drammatiche subito dopo della mamma di questo 27enne che ha raggiunto il luogo la casa dove si è consumata la tragedia i vicini hanno dichiarato ai carabinieri che insomma visti litigi non si conoscevano tra di loro ma insomma era un po' una tragedia annunciata l'urlo della madre del giovane subito accorsa sul luogo del delitto le testimonianze di chi ha sentito i primi colpi arrivare dalla casa lui era riservato ma sapevamo raccontano i vicini che era una famiglia problematica le liti erano continue dunque una tragedia annunciata secondo i vicini di casa che spesso sentivano le grida provenire da quell'abitazione non li conoscevamo spiega una di loro non avevamo rapporti con loro so che la moglie non abitava più lì e che invece il figlio era rimasto un povero ragazzo con tanti problemi una brutta storia invece tornando alla nostra consuita al nostro consueto approfondimento attraverso i giornali sulla pandemia ieri come ben sapete a mezzogiorno i centralini si sono aperti per le prenotazioni del vaccino ovviamente era una prenotazione riservata a uomini donne di età comprese tra i 70 e 79 anni non è andata benissimo nel senso che alla fine ieri 50.000 persone sono riuscite a prenotarsi per il vaccino ma tantissimi anzi sono rimasti esclusi perché? perché non sono riusciti a prendere la linea non sono riusciti a entrare nel sito delle poste e quindi dovranno riprovarci oggi il titolo del Corriere Adriatico la carica la carica degli over 70 subito 50.000 prenotati nonostante un file corrotto mandi in tilt il sistema call center e sito delle poste viaggiano alla grande salta martini cioè la metà del target via le iscrizioni nelle liste di estremamente vulnerabili e disabili allora queste persone che ieri sono riuscite a prenotarsi 50.000 l'abbiamo detto da ieri è possibile iscriversi a queste liste anche di persone estremamente vulnerabili non seguite da strutture assistenziali è partita la vaccinazione anche degli estremamente vulnerabili seguiti invece da strutture assistenziali e da ieri alle 18 si è aperta l'iscrizione alle liste delle persone con gravi disabilità non assistite da strutture residenziali l'inizio delle vaccinazioni è previsto per il 6 di aprile quindi c'è ancora qualche giorno intanto il picco abbiamo detto il picco che non è quello che si fa per il vaccino ma il picco l'andamento della pandemia è nelle marche ormai alle spalle se saremo ancora prudenti lo dice il capo dell'osservatorio epidemiologico della regione Pompili che dice aggiunge per i reparti intensivi è iniziata la discesa ora nell'area medica i dati andranno comunque confermati tra qualche giorno ma per incidenze e ricoveri andrà sempre meglio queste sono parole che ci fanno un pochettino tirare un sospiro di sollievo sul tasso di incidenza di casi positivi le marche sono dunque in fase regressiva e lo stesso vale per le ospedalizzazioni benché l'andamento sia più chiaro nei reparti intensivi rispetto a quelli di area medica le terapie intensive scrive in questo articolo Martina Marinangeli le terapie intensive dovrebbero aver raggiunto il loro picco il 25 marzo scorso con 157 posti letto occupati l'andamento di decrescita andrà confermato nei prossimi giorni ma considerando che a ieri ricoverati erano 151 quindi 6 in meno un calo dunque inizia a scorgersi ma nel frattempo c'è ancora gente che aspetta il pronto soccorso di essere ricoverata ancora alto il numero degli anziani nelle residenze dedicate 267 l'attesa al pronto soccorso in 105 aspettano il ricovero questo è un report che troverete sempre sulla pagina del Corriere Adriatico poi c'è un protocollo d'intesa tra l'ordine dei giornalisti delle Marche e appunto la Regione vaccini e giornalisti sinergia sì sostituirsi no lo dice il presidente dell'ordine Franco Elisei i costi ricadrebbero infatti sugli iscritti nessun privilegio e nessuna volontà di scavalcare categorie fragili o fasce d'età già programmate a livello nazionale e ben altro lo spirito con cui l'ordine dei giornalisti delle Marche intende aderire all'iniziativa della Regione che ha chiesto un contributo attivo agli ordini professionali nella campagna vaccinale anti-Covid delegando l'organizzazione di gran parte del processo sanitario e amministrativo l'ordine è disponibile ad accelerare l'operazione vaccini ma non può e non deve sostituirsi del tutto al sistema sanitario in una operazione di estrema delicatezza e responsabilità e appunto lo precisa in una nota l'ordine dei giornalisti firmato dal Presidente Franco Lisei che dice la Regione ci ha proposto un protocollo in cui si impegna a mettere a disposizione le dosi necessarie di vaccino e a indicare le linee operative da rispettare mentre agli ordini spetterebbe tutto il resto in pratica viene chiesto di stipulare anche una convenzione con un'eventuale struttura sanitaria già attrezzata tutto ciò ovviamente ha un costo destinato a ricadere inevitabilmente sugli iscritti su base volontaria che aderiranno a questo percorso siamo favorevoli a collaborare ma chiediamo di modificare l'attuale protocollo di intesa e quindi che sia la Regione a firmare la convenzione con questa struttura sanitaria ad ospitare una corretta vaccinazione insomma l'ordine dice io non posso prendere accordi con una struttura sanitaria pagare perché poi l'ordine chi paga sono gli associati eccetera poi vabbè comunque adesso al di là di tutto ci sono colleghi che vanno in prima linea altri che se ne stanno tranquillamente a casa scrivono e fanno tutto da lì quindi adesso certamente chi è più esposto potrebbe vaccinarsi ma non c'è bisogno di strutture a parte insomma si mette in fila e fa come tutti gli altri Focolaio nel convento di clausura invece 16 positive sono le suore Clarisse di Mercatello sul Metauro che sono rimaste contagiate alcune di loro sono alletto con la febbre nessuna grazie a Dio è grave e siamo in provincia di Pesorbino ancora tutte positive queste suore 16 del monastero delle Clarisse Capuccine significa che dei 30 contagi registrati nel paese di Mercatello sul Metauro più della metà sono attribuibili proprio al Focolaio scoppiato in convento le monache nel complesso sono in buone condizioni di salute per nessuna di loro è stato necessario il ricovero in ospedale ma alcune di loro sono allettate con leggera febbre altre con solo qualche indolenzimento mentre le altre continuano a portare avanti i piccoli lavoretti però lo so diciamo queste suore che insomma pregano giorno e notte hanno il vaccino il vaccino quello che conta il vaccino spirituale che è più potente di tutti allora tossisce in faccia invece qui siamo a Fano un ventenne di origini nigeriane senza mascherina che è entrato all'Eurospin quello nuovo vicino alla stazione di Fano questo comincia a tossire in faccia la gente ovviamente senza mascherina quindi il panico generale lui arriva alla polizia chiaramente subito ma lui aggredisce i poliziotti e viene arrestato per fortuna il tampone era negativo questa è la notizia il processo la condanna ed espulsione ma a causa della pandemia non sono stati trovati i voli per rispedirlo e farlo tossire in un altro paese ora invece dalla Valcesano il Carlino dopo un mese di contagi i contagi calano lo strano caso di Fratterosa strano perché perché se andiamo a vedere questa tabella che vedete anche voi sul televisore di casa a Fratterosa siamo passati da un positivo che era l'8 di marzo un positivo il 15 un positivo il 22 quindi tre settimane con un positivo poi a un certo punto boom esplosione sei positivi tutto in una volta e quindi lo strano caso nel senso che evidentemente qualcuno che era positivo che si è ha fatto un po' come dire il leggerino no? si è fatto un po' così Alex Ristò invece ieri c'è stato il dibutto di questo nuovo punto vaccinale a Pesaro dove che è andato a sostituire il centro sociale le cellette monaldi dove più volte ci siamo occupati delle proteste di questi anziani che andavano lì erano costretti ad aspettare ore e ore invece questa volta anche ieri abbiamo sentito abbiamo fatto le nostre interviste tutti contenti a Pesaro tutti soddisfatti hanno fatto prestissimo 4-4-8 insomma Alex Ristò tutto adesso va a regime la macchina dei vaccini l'obiettivo ancora non è stato raggiunto perché sarà quello di vaccinare 2000 persone al giorno il dottor Carlotti dice immunizzare tutti entro fine anno con più medici e naturalmente più sedi perché adesso più o meno si è cambiata la sede ma rimane solo un punto vaccinale più grande certamente 1200 metri ma solo uno la richiesta è quella di aumentare più punti per esempio a Vallefoglia dove abbiamo tanti nostri ascoltatori a Vallefoglia ci vorrebbe anche lì un punto vaccinale senza costringere questi anziani a fare il passaggio a mettersi in macchina in auto fino a Pesaro insomma almeno 4 sono i punti vaccinali nel resto della provincia a Fano invece va tutto bene Codma abbiamo visto tutti non ci sono mai stati problemi né code né assembramenti ora dal cilindro dal cilindro dell'assestamento la regione pensa al Ristori Bis il Ristori Bis sono i soldi i soldi che vanno alle categorie più colpite l'ipotesi è affiorata in giunta si parla di alcune decine di milioni l'idea è nata sull'asse Aquaroli Castelli se ne è parlato nella seconda metà della scorsa settimana su input del capo servizio di bilancio Maria di Buonaventura che insieme all'assessore competente ha squadernato un possibile assetto delle casse di Palazzo Raffaello dove si è dalla regione al 30 aprile quando le operazioni tecniche per l'assestamento del documento economico finanziario saranno già avviate e dunque secondo questa visione ci sarebbero i margini per avviare una manovra di un certo peso insomma diciamo nell'ordine di alcune decine di milioni si parla addirittura di 40-50 milioni tale cioè da poter fornire un segnale significativo a una parte del tessuto economico che il governatore Acquaroli ha particolarmente a cuore dunque si studia per aiutare le categorie escluse dal decreto sostegno scrive Andrea Taffi a fine aprile si fisserà il perimetro di azione della manovra e insomma arriveranno questi soldi questi ristori bis 40-50 milioni che insomma non saranno la soluzione di tutti i mali però potrebbero essere un buon aiutino intanto se andiamo a Recanati andiamo a Recanati perché perché a proposito dei politici c'è un ristoratore che ha il dente avvelenato ha messo un cartello fuori dalla porta con scritto qui i politici non possono entrare il cartello eccolo qua lo facciamo vedere subito guardate fatto anche graficamente bene locale sanificato poi vietato eccolo qua vietato l'ingresso ai politici la protesta è di Mirko Malatini titolare del locale Poesia Tavola siamo Recanati non poteva chiamarsi diversamente ristori come briciole e con il nuovo governo non è cambiato nulla cosa dice questo ristoratore dice oggi purtroppo le porte del locale sono da tempo chiuse e i ristori non arrivano se non le briciole confermo ancora di più l'idea di non fare entrare più nessun politico sono tutti uguali qualsiasi partito prendi non meritano di essere serviti per il modo in cui ci stanno trattando e questa è la fotografia appunto di Mirko Malatini ora nella pagina della Val Metauro sempre a proposito di pandemia di Covid-19 tra i contagiati c'è anche Luca Serfilippi il consigliere regionale della Lega di Fano positivo al Covid-19 ha un po' di febbre 38 di febbre e un po' di dolore alle osse insomma indolenzimento e lui lancia un appello dice ragazzi usate la prudenza Luca Serfilippi ha 33 anni in tutto sono 6 a questo punto su 30 consiglieri regionali che hanno contratto il virus oltre a Serfilippi c'è anche Emanuela Bora Michela Vitri Romano Carancini Andrea Puzzu e Carlo Ciccioli insomma contagiato invece un anno fa all'inizio ricordiamo bene il vice presidente della giunta regionale Mirko Carloni la notizia l'ha data lui stesso dice purtroppo questo maledetto virus ha colpito anche me dal risultato del tampone molecolare sono risultato positivo al Covid sto benino dice probabilmente il peggio è passato l'invito che faccio a tutti è la massima cautela nei comportamenti specialmente ai giovani dato che nessuno in questo momento può considerarsi immune al di fuori di coloro che hanno fatto il vaccino il sospetto di aver contratto l'infezione sui mezzi pubblici di trasporto verso Ancona e allora adesso invece a pagina 6 si parla dei monoclonali perché a 10 giorni dalle prime infusioni a Marche Nord il primario Frausini fa il punto e dice siamo già all'undicesimo paziente con i monoclonali la carica verale è decapitata in base alle richieste del territorio pronti a raddoppiare gli spazi e dunque c'è un farmaco in più e intanto dal lettino dell'ospedale del San Salvatore di Pesaro Pierugo Boni dice sono attaccato ai tubi del Covid esperienza tragica l'esponente politico di Forza Italia candidato alle regionali rivela le sue difficili condizioni di salute questa è la fotografia che ha pubblicato sulla sua pagina con un messaggio breve dove insomma si parla anche di questa trasmettibilità altissima tra l'altro del virus dovuto a queste varianti che stanno intasando i reparti del San Salvatore poi fronte comune con l'azienda ospedaliera vaccini ai soggetti diabetici associazioni in prima linea forte impegno dei volontari della FAN di Avaino nel supportare la logistica al presidio di Muraglia ci sono mille soggetti milleottocento anzi soggetti fragili che sabato e domenica scorsi sono stati vaccinate a Muraglia e c'erano anche le associazioni di diabetici e loro è stato un supporto fondamentale per quello che riguarda tutta la parte logistica come racconta Isabella Avantifiori che è presidente dell'associazione diabetici FAN De Fano e devo dire che insomma è andata bene anche nello scorso fine settimana intanto intanto oltre manica avrebbe da dire così insomma oltre manica l'Inghilterra il Regno Unito ha festeggiato il Felice Lunedì sapete perché? perché hanno avuto a Londra zero morti finalmente dopo tanti mesi di lutti lunedì ieri zero morti e dunque Londra è uscita dall'incubo restrizioni allentate in tutto il paese parchi piazze e spiagge affollate Johnson ovviamente dice occhio cautela però diciamo che ormai Londra che è stata particolarmente colpita dalla pandemia subendo il 12% del totale dei decessi nazionali può in qualche modo ecco sorridere in una giornata di sole in una giornata in cui tanti londinesi ne hanno approfittato per andare a fare una passeggiata nei parchi lungo le spiagge eccetera eccetera insomma è andata bene è andata bene e già si pensa al piano per l'autunno vedete come si programma già in tempo quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa l'Europa sta facendo e ha fatto purtroppo una figuraccia che ne parleranno i libri di storia loro sono usciti hanno voluto fare di testa loro però stanno facendo bene non dico che hanno fatto bene uscire dall'Europa ma stanno facendo bene forse un po' più leggeri andiamo sulla pagina di Fano invece ho letto i bilanci di Aset qui parliamo della fusione tra Aset e Marche Multiservizi e ho capito questo chi è che parla parla Silvano Franchini ex Partito Democratico consulente del Sindaco e su Aset dice Franchini basta polemiche ed emagogia serve una consulenza neutra ad esempio indicata dal Lanci per far ripartire una discussione seria e fondata abbandonando la campagna elettorale permanente ma volevo e qui c'è tutto l'articolo che potrete leggere che porta la firma di Anna Marchetti ma è qui che volevo un attimo soffermarmi se abbiamo tempo perché perché Samoria Mascarin rivela un fatto che a mio parere è un fatto gravissimo che si è verificato nell'ottobre scorso anzi il 20 ottobre siamo più precisi del 2020 quando racconta Mascarin sono stato avvisato dal Sindaco Seri lui stesso sorpreso che mattinata sarebbero arrivati in comune per un colloquio l'allora presidente di Marche Multiservizi Antonello Delle Noci e l'amministratore delegato Mauro Tiviroli ho immaginato che ci venissero a parlare del biodigestore tenuto conto che già allora eravamo in una situazione di blocco di impassa all'appuntamento insieme a me erano presenti il Sindaco Seri il Vice Sindaco Fanesi e il dirigente Celani i nostri interlocutori sono arrivati con una serie di fascicoli e documenti che avrebbero voluto presentarci Delle Noci e Tiviroli hanno subito portato la discussione sulla fusione e Delle Noci ha addirittura azzardato ad una battuta su possibili presidenze fanesi della nuova azienda che sarebbe nata dalla fusione di Aset con Marche Multiservizi concetto poi ribadito circa un mese dopo dal Sindaco di Pesero Matteo Ricci in un post sul suo profilo Facebook dove annunciava la nomina di Daniele Tagliolini alla guida di Marche Multiservizi e Ricci dichiarava scrivendolo su Facebook mi piacerebbe che il futuro presidente di Marche Multiservizi dopo Daniele fosse un esponente della zona di Fano dobbiamo assolutamente realizzare un'unica società provinciale il prima possibile ora tornando e devo chiudere all'incontro del 20 ottobre Mascarina ha ricordato che la proposta di Marche Multiservizi lasciò tutti sbalorditi io in maniera un po' brusca feci presente che non avevamo alcun mandato a parlare della fusione bravo Mascarin noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale poi guarda chi c'è con la scuola d'arte circense marchigiana di Ulisse Takimiri arrivederci grazie a tutti grazie a tutti